Il mio nome e cognome sarebbe Consoli Natale Santo, mestiere scavatorista. Il mio ruolo è gestire la cava in modo da mestiere. È da molto tempo che io lavoro nelle cave, quindi l'esperienza c'è. Sono qua a rompere le rocce. Questa è pietra lavica, è tutta pietra lavica. Praticamente le macchine di ieri, erano le macchine di ieri, le macchine di oggi sono molto, molto, assai più comode, più, diciamo, ti trovi molto bene sull'escapotore, perché c'hai tutti i comfort, c'hai tutto quello che vuoi. Quindi mi trovo meglio di prima. Stiamo parlando di una macchina nuova, stiamo parlando di una macchina che è praticamente una macchina abbastanza grossa, 50 e passa tonnellate, quindi come movimento si muove abbastanza bene. Io non mi posso lamentare perché è una macchina che è nuova, dico, giusto? Non sappiamo la durata. Però voglio dire, per il momento la macchina va benissimo. C'è lo schermo, non si mette in moto più con la chiave, ma c'è un bottone tipo BMW. Ci sono tante cose moderne, diciamo, che la tecnologia va avanti. Poi è tutto elettronico, deve accelerare, prima i bottoni acceleri, gli devi dare l'olio. Sai come lo devi dare, la macchina stessa fa tutto, non c'è bisogno del meccanico che gira, vai. A lavorare attualmente siamo due, prossimamente arriverà qualche altro. Rompiamo la roccia, si fa a pezzi più o meno 70-80 centimetri, si carica sui camion e si porta a frantumare. C'è praticamente un impianto di frantumazione dove si scarica e frantumano e fanno tutto, noi ci chiamiamo azzolo. Poi è sabbia lavica, diciamo, petriccio, greniglio, tutta questa roba. Poi è sabbia lavica, diciamo, petriccio, greniglio, tutta questa roba.